Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siete stanchi di scervellarvi per creare un deck e quindi vincere le sfide e progredire con la quest della regina sanguinaria? Bene, oggi sono qui per proporvi un mazzo facilissimo, letteralmente facilissimo da utilizzare, che non è questo ma è questo, un mazzo facilissimo da utilizzare e che vi consentirà soprattutto di giocare contro chiunque battendolo a prescindere, perché questo deck ha la peculiarità di potenziarsi praticamente da solo. Che cosa vuol dire potenziarsi da solo? È molto semplice, abbiamo delle carte ovviamente all'interno del nostro mazzo che si potenzieranno man mano che noi elimineremo le nostre stesse carte, quindi avremo una sorta di circolo vizioso dove praticamente i nostri mostri eliminandosi da soli permetteranno ovviamente al nostro deck di diventare sempre più forte. E inoltre è un mazzo che comunque sia è abbastanza semplice da utilizzare e da costruire perché tutte le carte comunque sia non sono rare, o per meglio dire ce ne sono soltanto due di quelle carte rare. La prima è la Loveless che comunque la troverete all'interno del Gold Saucer e anche il Fontino che troverete sempre all'interno del Gold Saucer scambiandole tramite i punti. Quindi andando avanti con la vostra missione, andando avanti con la vostra quest riuscirete prima o poi anche a droppare queste carte e una volta droppate queste carte non dovrete far altro che copiare questo deck. Ovvero due arcidraghi, due colibri, due artigli letali, una Loveless che comunque è facoltativa perché non è detto che la utilizzeremo, un Joker estremamente importante, un Fontino anch'esso facoltativo e poi tutte carte che si possono sovrapporre. La meccanica delle carte che si possono sovrapporre ovviamente verrà sbloccata un po' più avanti nella missione o comunque in generale nella side quest, però una volta che avrete sbloccato le prime carte sovrapponibili prendetele. Vi consiglio ovviamente due Gradodo che vi consentono comunque di conquistare sopra e a destra e poi due Gran Corno che vi consentono di conquistare sotto e sempre a destra. E poi due carte che ho messo praticamente a caso, sempre sovrapponibili, semplicemente perché mi servivano appunto delle carte che si potessero sovrapporre. Come funziona fondamentalmente il deck? Il deck funziona con il potenziamento degli artigli letali, perché come potete leggere il loro effetto è si potenzia di uno con la sparizione di carte avversarie. Quindi in questo caso noi permetteremo comunque di far sparire le carte avversarie e quindi di conseguenza ottenere punteggio. Ma il vero punto di forza di questo mazzo potrebbe essere il Fantino, perché regala un bonus di 10 punti per schieramento conquistato e poi il Joker che comunque sia ci consente di potenziarsi con la sparizione di carte alleate e avversarie. Quindi capite già come praticamente noi giochiamo fondamentalmente sul fattore sparizione e sul fattore ovviamente eliminazione delle carte per permetterci comunque di conquistare i punteggi. E poi l'Arcidrago che come potete vedere una volta giocata praticamente depotenzia di 3 le carte avversarie nelle caselle interessate. Quindi quando riusciremo a giocare l'Arcidrago e potremo in un modo o nell'altro debuffare ovviamente le nostre carte avversarie, potremo tranquillamente prendere punteggio. Però so che sembra difficile, so che sembra molto complesso, in realtà questo mazzo è veramente facilissimo da utilizzare. E adesso ve lo faccio vedere a disposizione in gioco. Allora, per evitare confusione e per evitare che poi comunque magari non si capisca bene dove trovare le varie carte, la carta del Fantino si trova sempre a Gold Saucer scambiando i punti nella zona Chocobo. Quindi una volta che voi farete le gare o comunque avrete accumulato dei punti, basta parlare con la signora che vi permetterà di scambiare i punti e prendere la carta Fantino che si trova esattamente qui. Mentre invece la carta Loveless si trova al teatro e adesso ve lo faccio vedere. E sempre al Gold Saucer nella zona teatrale, quindi come potete vedere siamo praticamente di fronte al teatro, basta parlare con la signora che vi permette di scambiare i punti e qui otterrete la carta Loveless. Quindi come vi ho detto le uniche due carte che sono un po' più rare si ottengono tranquillamente al Gold Saucer, quindi non ci sono troppi problemi. Tutte le altre carte invece le otterrete man mano che progredirete con la storia della regina insanguinata. Quindi è un deck che comunque possono costruire tutti e vedrete come funziona alla grande. Allora, eccoci qui in battaglia. Le carte che tecnicamente dovreste avere in mano o comunque che dovreste cercare di avere in mano almeno all'inizio sono almeno un Colibri e il Joker. Quindi se non avete queste carte, ovviamente tutte le altre cambiatele. Ok, abbiamo anche il Joker. Qui abbiamo addirittura Mai che è sovrapponibile. De potenzia le avversarie nella casella interessata in base alla potenza delle carte fatte sparire. Oddio, mi va benissimo. Sto facendo un match al Gold Saucer. Quindi la prima cosa da fare è giocare il Colibri. Allora, vediamo lui cosa gioca. Anche lui gioca un Colibri. A questo punto giocate il Joker da questa parte. Va benissimo. Noi qui cosa abbiamo? Un altro Colibri. Ah, lei è sovrapponibile, vero? Va bene. Mettiamo un Colibri qua. Ok. Lui ora riconquista. Lui facciamo così e come potete vedere il Joker inizia a buffarsi. Benissimo. E noi a questo punto adesso iniziamo... Ecco qua. Però questa la giochiamo dopo. Ecco qua mettiamo un Fantino. E già abbiamo il bonus praticamente. Quindi abbiamo già vinto in teoria però. Ok, ok. Va bene. Mettiamo questa. Va bene. Lo facciamo così. Queste sono sovrapponibili. Ok, facciamo così. Olè. E come potete vedere iniziamo a buffarci. Ok, lui ha le sovrapponibili. E io però come potete notare mi sto potenziando pure. a questo punto è sovrapponibile anche noi. Continuiamo a potenziarci. Ok, facciamo così. Bravi. Vedete? E noi praticamente ci continuiamo a potenziare così. Abbastanza... Abbastanza... Abbastanza easy. Ehm... Li facciamo così. Ok, in questo momento stiamo vincendo comunque. Vedete praticamente come ci stiamo potenziando man mano? Ok, lui ha passato. Noi passiamo e vinciamo. E' veramente... E' un deck facilissimo da utilizzare. Il vostro punto di forza sono ovviamente la sovrapposizione delle carte. Quindi potete tranquillamente giocare come e quando volete. Cercate ovviamente di fare attenzione a come sfruttare il deck. E ovviamente i risultati sono così. A portata di mano. Spero che questo video possa esservi utile per progredire con la vostra quest della regina insanguinata. E noi come sempre ci becchiamo alla prossima.